Murini Jacopo, corsia 4 Siamo pronti alla partenza della sessontera della Marte Ria Santo Stile di Gramassi forse a uno dei coci migliori, noto Cristo 2003 forse a due Stagni Matteo, certo noto Montemarchi forse a tre, il cuore Antonio, noto 200 forse a quattro, noto Paolo, questo noto non viene da bravo corsia 5, Monti Sciari da Nato, noto Cristo 2003 corsia 6, Filippi Francesco, Marparamo Pistoria